Anche da un semplice broccolo può nascere una ricetta sfiziosa e super golosa. La torta di broccoli con salame piccante e scamorza filante. Ghiotta e saporita sarà amore a primo assaggio e vedi che ti mangi! Puliamo i broccoli staccando le cimette dal gambo e tagliando la parte del gambo delle cimette e rondelle sottili. Appena l'acqua bolla esaliamola e lessiamoli. Dovranno cuocere circa 8 o 9 minuti dalla ripresa del bollore. Il segreto per eliminare il cattivo odore è mantenere il bel colore verde e aggiungere una puntina di bicarbonato. Scogliamoli e lasciamoli intiepidire. Sminuzziamoli molto finemente con un coltello e trasferiamoli in una ciotola capiente. Aggiungiamo le patate lesse schiacciate, un pizzico di sale, il formaggio grattugiato, la fecola di patate e due uova. Amalgamiamo bene il tutto fino a ottenere un composto uniforme e omogeneo. Rivestiamo la tortiera con carta forno, la miera di 24 cm. Lucidiamo il fondo con un po' d'olio e cospargiamolo con un po' di pangrattato. E trasferiamo al suo interno metà del composto con i broccoli. Livelliamolo con un cucchiaio e poi compattiamolo con le mani. Basterà bagnarle con un pochino d'acqua, in modo da non umidirle e creare una base compatta e uniforme. Diamo forma anche al cornicione sui bordi. E per la farcitura aggiungiamo il primo strato di scamorza fumicata e di mozzarella. Proseguiamo aggiungendo il salame piccante e poi altra scamorza e mozzarella. Si formerà un cuore saporito, goloso e superfilante. Richiudiamo con il restante composto con i broccoli. Per livellare la superficie in modo accurato, bagniamoci sempre le mani con un pochino d'acqua. Terminiamo con una pioggia di formaggio grattugiato e di pangrattato e con un filino d'olio. Cuociamo in forno a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Solo se occorre terminiamo con qualche minuto di grill, ma sarà pronta quando sulla superficie ci sarà formata una golosa crosticina dorata e il cuore sarà superfilante. Preparatela perché è buonissima!